amici della natura vi ricordo che anche quest'anno Golia Bianca rinnova il suo impegno a favore degli orsi bianchi in questi anni Golia Bianca e il WWF hanno fatto molto per proteggere l'artico ma con il vostro aiuto possiamo fare ancora di più è facile basta scegliere Golia Bianca il tenero confetto ripieno di freschezza grazie